Musica Covid, nuovi divieti, Dema, sceriffo, inutile, quarantena ridotta 10 giorni e stop alle feste private, nuove misure per bloccare i contagi e De Magistris attacca De Luca, non serve lo sceriffo ma una sanità pubblica che funziona. Ad Acerra, 100 positivi in un solo giorno. Odissea tra gli ospedali, paziente muore di Covid, ha cercato un posto prima al Pellegrini, poi al Cotugno, dove è deceduto. A Napoli si indaga sulla morte di un settantenne positivo, il 118 era disponibile ad un ricovero solo fuori regione. L'azienda dei Colli chiarisce nessun ritardo nei soccorsi. Avellino, caso positivo, festa, chiude il comune, oggi sanificazione a Piazza del Popolo. Il sindaco assicura situazione sotto controllo, già domani uffici di nuovo operativi. Per tutti i dipendenti comunali, tamponi con il drive-in a Campo Genova. Nuovo appello alla regione per l'utilizzo dell'ex ospedale Maffucci. Telese, chiuso per Covid, il presidio dei pompieri è risultato positivo, un vigile del fuoco. L'Asl ha subito attivato la procedura per tamponi, ricostruendo tutti i contatti diretti. Chiuso per ora il distaccamento dei caschi rossi. Stamane vertice in prefettura, stretta sui controlli, ma ristoratori e commercianti avvertono così chiudiamo. Movida, niente mascherine, raffica di multe a Salerno, multati esercenti e soprattutto giovani per il mancato utilizzo dei dispositivi di protezione. Ai microfoni di 8 Channel, l'assessore al commercio del comune, Loffredo, che difende la categoria. Solo una piccola parte non rispetta le regole. Maria Paola, cento fiaccole per conoscere la verità, ad un mese dalla morte della diciottenne uccisa perché amava un trans, marcia di solidarietà degli abitanti del Parco Verde di Caevano. Anche una lapide la ricorderà, il dolore di Ciro, eravamo due bambini felici. E questi erano i nostri titoli, buon pomeriggio, ben ritrovati con l'informazione regionale del canale 696. E dunque il governo vara le nuove misure per frenare l'aumento dei contagi da coronavirus. In Campania 633 i positivi delle ultime 24 ore. De Magistris attacca il governatore De Luca, non serve lo sceriffo. Vediamo il servizio. Quarantana a breve ridotta a dieci giorni, un solo tampone negativo per dichiarare la guarigione. Il governo lavora la nuova stretta contro il covid, con il divieto di svolgere feste anche private e lo stop al calcetto, al basket, ad altri sport, a livello amatoriale. Non dovrebbero esserci novità per la scuola, come annuncia il ministro Azzolina su Facebook, salvo l'utilizzo dei test rapidi. Sarà vietato ai cittadini sostare davanti ai locali fino alle 6 del mattino dalle 21, con lo stop alla Movida per le 24, ma i controlli a tappeto nel weekend di Napoli restituiscono le solite scene di divertimento fuori controllo e assembramenti senza regole. 160 furbetti multati tra i baretti assediati e il lungomare affollatissimo. A Piazza Bellini divertimento fuori controllo con lo spettacolo del mangiafuoco. E il bilancio complessivo delle ultime ore resta pesantissimo. E De Magistris, ospite a Radio Capital, va all'attacco contro De Luca e dice tanti soldi spesi male. Alcuno pensava che facendo qualche show su Facebook o qualche vignetta si arginava la pandemia, ma la pandemia non serve lo scerifo, serve la sanità pubblica. Alcuno che non conosce la situazione può pensare che sia uno scontro personale, che non lo è. È politico. Adesso che i numeri aumentano e vengono alla luce i numeri della sanità pubblica regionale causati da De Luca e dai governi anche precedenti, ma De Luca sicuramente ha molto contratto ridotto i presidi di sanità pubblica, c'è la preoccupazione. Basta vedere i numeri. A Napoli intanto un focolaio di Covid si è sviluppato all'interno della residenza per anziani ubicata ai Colli Aminei. Sarebbero 48 i positivi accertati, quasi tutti asintomatici, a parte qualcuno che avrebbe della febbre. Spaventano i cluster in provincia, 110 casi in penisola sorrentina, boom di contagi a Monte di Procida per una festa di matrimonio con 200 invitati. Ad Acerra 124 i positivi in pochi giorni e quasi tutti sono giovani e riferiti ad un cluster esploso in una scuola. Si va verso la serrata di circoli e parchi. Odissea tra ospedali, prima al Pellegrini dove non c'era posto, poi al Cotugno dove è morto. A Napoli si indaga sul decesso di un paziente Covid di 70 anni. Il 118 avrebbe dato disponibilità ad un ricovero solo fuori regione, aperta. Un'inchiesta interna. Vediamo. Un'odissea tra ospedali, un paziente di 70 anni affetto da Covid rimpallato dopo la telefonata al 118 prima al pronto soccorso del Pellegrini e poi al Cotugno di Napoli dove purtroppo è deceduto. I familiari dell'uomo hanno denunciato il presunto caso di mala sanità. La richiesta di intervento sanitario è stata fatta sabato sera in seguito all'aggravarsi delle condizioni di salute dell'uomo. Su consiglio del medico curante i parenti hanno telefonato al 118. E qui, stando alla loro versione, la prima doccia fredda, tutto esaurito nella rete Covid in Campania. Il paziente poteva essere ricoverato solo in Calabria o addirittura in Sicilia. Stessa richiesta il giorno successivo e ancora una volta i medici che hanno soccorso il paziente a casa hanno fatto sapere che non c'erano posti in ospedale. Solo su insistenza dei familiari il settantenne è stato caricato in ambulanza e condotto prima al vecchio Pellegrini e poi al Cotugno. E proprio qui, al pronto soccorso, in attesa di essere ricoverato, l'uomo è deceduto. Di qui la rabbia dei parenti che hanno denunciato l'accaduto. Il 118 ha aperto un'indagine interna, anche se dalla centrale operativa hanno sottolineato che non possono gestire i trasferimenti di pazienti fuori regione. Anche l'azienda dei Colli ha afferto la propria versione. Il settantenne, secondo la direzione ospedaliera, sarebbe arrivato in condizioni gravissime al pronto soccorso ed è stato subito assistito. Il presidio non era pieno e sono stati effettuati i primi esami e somministrato l'ossigeno, ma il quadro è rapidamente peggiorato. Nonostante i tentativi di rianimazione andati avanti per circa un'ora hanno chiarito dal Cotugno, l'uomo purtroppo è deceduto. Insomma, due versioni totalmente contrastanti. Il consigliere regionale, Francesco Emilio Borrelli, parla di episodio gravissimo e invoca chiarimenti sulla disponibilità dei posti letto per pazienti Covid a Napoli e in Campania. Sono 230 i casi Covid in provincia di Benevento, dove nella tarda serata di ieri è stato anche chiuso il distaccamento dei vigili del fuoco di Telese Terme a causa della positività di uno dei pompieri. Questa mattina sulla situazione Covid in generale è stata riunita la riunione in prefettura. Vediamo. Continua a crescere il numero delle persone contagiate dal coronavirus nel Sannio. Attualmente sono oltre 230 e a Telese Terme è stato chiuso il distaccamento dei vigili del fuoco dopo la positività di uno dei pompieri. Il comandante provinciale, Maria Angelina D'Agostino, ha quindi disposto la chiusura della struttura della Valle d'Elesina ed ha attuato tutte le misure previste in questi casi dai protocolli. La struttura nelle prossime ore sarà sanificata al pari dei mezzi di soccorso. L'ASL intanto è stata informata della situazione ed ha avviato gli accertamenti per identificare i contatti che il vigile del fuoco ha avuto con colleghi ed altre persone. Successivamente l'azienda sanitaria locale interesserà i contatti per effettuare i tamponi. Ovviamente il soccorso per quanto di competenza dei vigili del fuoco in Malle d'Elesina resta attivo e sarà gestito direttamente dal comando provinciale. Caserma chiusa in situazione covid in generale in mattinata al centro di un mertice in medio conferenza presieduto dal prefetto Cappetta. Il fatto è messo in relazione sia la comandante del provinciale dei vigili del fuoco che con il direttore dell'ASL e immediatamente provvederanno a fare il tampone sia alla persona interessata sia anche agli altri che hanno avuto contatti diretti con questa persona. Per quanto riguarda la scuola invece ci sono state le due chiusure delle scuole qui a Benevento il direttore dell'ufficio scolastico provinciale sta monitorando la situazione e sarà in costante contatto sia con il questore sotto l'aspetto della sicurezza sia con il dirigente dell'ASL. Preoccupa la situazione covid anche in Irpinia. Ci sono stati tre morti a distanza di poche ore all'ospedale Moscati di Avellino. Intanto anche il comune è chiuso perché un dipendente risultato positivo. Il covid arriva anche al comune di Avellino che oggi è rimasto chiuso per la sanificazione. Un dipendente dell'ente di piazza del popolo ha infatti risultato positivo ma asintomatico e il sindaco Gianluca Festa ha immediatamente predisposto lo screening per tutti i dipendenti del municipio. Tamponi effettuati questa mattina a Campo Genova. In Irpinia certamente c'è la presenza di un po' di casi ma al momento riusciamo a gestirli bene anche per ciò che concerne la città attraverso isolamenti e una serie di tamponi a tappeto di fatto che stiamo effettuando in grande collaborazione con l'ASL. Stiamo affrontando questa fase con responsabilità e anche con efficacia. C'è stato questo caso del dipendente positivo al comune. Prontamente abbiamo organizzato come si può vedere stamattina una serie di tamponi per i dipendenti che erano stati a contatto e quindi potenzialmente a rischio. Abbiamo anche sanificato gli uffici comunali ma da domani chiaramente saranno riaperti e si riprende la normale attività. Insieme all'ASL stiamo effettuando questi tamponi a tappeto. Se dovesse esserci l'esigenza di aumentarne il numero verificheremo con l'ASL se il comune magari debba dare una mano con i test rapidi. È evidente che questa azione però va concordata con l'azienda sanitaria locale e magari anche con Moscati perché da questa sinergia possiamo trovare la forza per affrontare anche questa seconda fase. Graffica di multe nel Salernitano per il mancato rispetto delle normative anticontagio sanzionati da carabinieri e polizia, esercenti e cittadini per il mancato utilizzo della mascherina. Vediamo. Multe nella Movida di Salerno e provincia. Questo weekend oltre 100 le persone sanzionate da polizie e carabinieri perché non indossavano la mascherina, 17 le attività commerciali multate per la mancata applicazione dei protocolli anticontagio da Covid-19 e il bilancio dei controlli messi a segno dalle forze dell'ordine. Sale il malcontento tra gli esercenti che lamentano di subire le restrizioni imposte mentre continuerebbero gli assembramenti in strada con la chiusura dei locali. Intanto a Salerno l'assessore al commercio del comune difende gli operatori del settore. La stragrande maggioranza dei commercianti sta facendo la propria parte, fa la propria parte e ha fatto la propria parte. Mantengono il distanziamento, sono tutti, voglio dire, dotati dell'equipaggiamento anti-Covid, sono assolutamente puntuali e precisi. La stragrande maggioranza dei commercianti, così come la stragrande maggioranza dei ristoratori e degli American Bar, mantengono il distanziamento. Ci sono delle piccole sparute, veramente 2-3% che non mantengono lì e lì dobbiamo incidere. Ma questo è il lavoro che deve fare tutte le forze di polizia. Intanto test negativi per i 5 dipendenti del comune di Salerno sottoposti a tampone, mentre il Covid continua a fare paura anche nell'agro. A Scafati, dove i positivi sono arrivati a 99, il sindaco Cristoforo Salvati ha disposto per oggi la chiusura di tutti gli uffici comunali, delle strutture sportive, comunali, presenti sul territorio per procedere alla sanificazione in seguito alla positività di un membro della Giunta. A Sarno Focolaio, in una primaria, aumentano i bambini contagiati. Chiude la scuola masseria della Corte. Paura anche all'Umberto I, dove un uomo positivo al Covid ha accompagnato la moglie in ospedale a partorire e ora rischia la denuncia. Controlli anti-Covid anche nel Sarno, intorno a bar e ristoranti, ma dal mondo dell'ospitalità arriva l'allarme sulle norme che si fanno ancora più stringenti. Così chiudiamo, dicono. Sentiamo. Controlli più stringenti per evitare assembramenti anche davanti ai locali e alle attività di ristorazione. A Benevento, fine settimana di intenso lavoro per la Polizia Municipale, impegnata per la Movida, ma non solo. Anche questa mattina i vigili hanno controllato caffetterie e bar per verificare il rispetto delle disposizioni imposte per evitare i contagi da Covid-19. Ma il mondo dell'ospitalità e della ristorazione lamenta la crisi profonda che ne deriva. In questo fine settimana noi già abbiamo visto la differenza rispetto al fine settimana scorso. Tanti italiani sono rimasti a casa, sono ripartiti i delivery e l'asporto e quindi, invece di stare al ristorante, gli italiani si chiudono a casa e magari mangiano in 15-20 a casa, facendo commitiva dentro casa. E anzi, è ancora più pericoloso questa situazione rispetto a stare in un ristorante con distanziamento, mascherine e così via. La chiusura alle 23 manda in crisi nera ai ristoratori. Abbiamo la sensazione che il governo viva una realtà virtuale, perché non riescono a capire evidentemente che cosa significhi chiudere alle 23 un ristorante o un bar. Una situazione in peggioramento giorno dopo giorno. Quindi è proprio una scelta scellerata che il governo sta facendo scientemente per mettere ancora di più in crisi un sistema. Forse è arrivato il momento di scendere in piazza, ma di scendere in piazza realmente. Trasporti lunedì in nero a Napoli. Si fermano le quattro funicolari della città. Fino alle 17 anche la metro linea 1 anticipa l'orario di chiusura serale. 8 ore di sciopero indette dai sindacati CGL, Will e UGL. Dopo giorni di tensione tra NM e Comune di Napoli, De Magistris aveva definito criminale l'atteggiamento dei dipendenti che si assentano per malattie. La risposta dei lavoratori è stata netta. Disagi si sono registrati fin dalle prime ore dello sciopero, in una giornata di pioggia con la mobilità in città che paga anche la chiusura di Galleria Vittoria. Rispettate le fasce di garanzia dalle 7 alle 9.20 e oggi dalle 17 alle 22, sullo sfondo la preoccupazione per eventuali nuove disposizioni del Governo per contrastare i contagi sui mezzi di trasporto. Allo Stato è consentita un'occupazione dei mezzi fino all'80%, ma non è escluso che si arrivi a limitare di nuovo la capienza massima di bus e vagoni. Ad un mese dalla sua morte, Caevano ricorda Maria Paola, la diciottenne del Parco Verde caduta dallo scooter su cui viaggiava insieme al compagno trans Ciro. Palloncini bianchi, lacrime e candele, l'iniziativa promossa da Archiei, la presidente falanga. Così nascono le rivoluzioni, il fratello della vittima resta in carcere. Una grande P sull'asfalto disegnata con la luce delle candele per illuminare la notte del Parco Verde di Caevano, il luogo in cui è cresciuta Maria Paola Gaglione, la diciottenne morta un mese fa dopo essere caduta dallo scooter. Lei e Ciro, il suo fidanzato trans, stavano percorrendo la provinciale a fratta minore quando il fratello li ha raggiunti in moto. Secondo la procura le ha speronati e ha causato la tragica fine della ragazza. Dopo 30 giorni il dolore è vivissimo, così come il ricordo. La famiglia ha sempre respinto le accuse di omotransfobia, ma di Paola adesso resta solo una lapide e l'amore di Ciro, piegato dal dolore che non è riuscito a leggere la lettera che aveva scritto per l'occasione. Palloncini bianchi, fiaccole, tanta commozione tra i presenti che hanno accompagnato il piccolo corteo. Alla testa la presidente di Arcighei, Daniela Falanga, che ricorda quanto lavoro c'è da fare ancora per la comunità LGBT e in generale contro la violenza e il degrado sociale. Abbiamo imparato che la libertà si deve rispettare, che la violenza è una condanna che purtroppo indistintamente tocca tutti i cittadini, gli uomini, le donne che intendono in qualche modo semplicemente amarsi ed essere liberi. E' un momento questo che non solo ricorda Paola, ma vuole ricordare ad un parco come questo, a uno dei ghetti che purtroppo sono in campagna a posto terremoto, che i politici, che l'Italia tutta deve attivarsi affinché questi spazi diventano spazi di interazione umana, culturale, affinché si cresca e si possa uscire fuori dai retaggi di violenza che poi creano questo tipo di situazione. Ferito al petto con una coltellata durante una lite nella tarda serata di ieri e in gravi condizioni, un giovane di 19 anni, soccorso e trasportato prima al Cardarelli e poi trasferito al Monaldi in codice rosso dopo che il colpo gli ha bucato il pericardio. L'intervento tempestivo dei sanitari ha permesso di evitare gravi problemi. La rissa sarebbe scoppiata poco prima della mezzanotte in via Impedocle a Pianura, per motivi ancora poco chiari. Sul caso stanno indagando i carabinieri. E' accusato di tratta di esseri umani un autotrasportatore 49enne di San Nicola Manfredi, arrestato nel Sannio con un mandato europeo in arrivo dal Belgio. L'operazione segue gli episodi delle scorse settimane. Vediamo. L'associazione per delinquere finalizzata la tratta di esseri umani aggravata è l'accusa con cui i carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Benevento hanno eseguito nella tarda serata di ieri un mandato di arresto europeo emesso dalla magistratura belga a carico di un 49enne autotrasportatore di San Nicola Manfredi. L'uomo è stato condotto presso il carcere di Benevento. L'ennesimo episodio che riguarda la tratta di clandestini, il terzo nel Sannio nelle ultime settimane. L'11 settembre scorso la polizia stradale dopo l'allarme lanciato da un automobilista ha ritrovato otto afghani in un camion frigorifero. Il 24 settembre invece un giovane migrante è rimasto ucciso, travolto dalle ruote del camion sotto il quale si nascondeva per entrare clandestinamente in Italia. Il dramma si è consumato a Paduli davanti ad uno stabilimento per la lavorazione dei tabacchi. E nei giorni scorsi il procuratore capo di Benevento, Aldo Policastro, ha rilanciato l'allarme. L'attenzione della procura resta alta sul fronte dei migranti. Scoperta una centrale del falso a Forcella. Sono stati due agenti del commissariato Vicaria Mercato, liberi dal servizio, a notare una persona che stava trasportando una busta dalla quale fuoriuscivano numerosi i capi di abbigliamento. I poliziotti hanno seguito l'uomo che alla vista di una volante sopraggiunta sul posto è entrato velocemente in uno stabile dove è stato bloccato e trovato in possesso di numerosi giubbotti contraffatti contenuti nel sacco. Insieme con altri equipaggi dell'ufficio prevenzione e grazie ad una squadra dei vigili del fuoco che ha aperto le porte di diversi terranei dell'edificio, i poliziotti hanno controllato i locali in cui hanno rinvenuto numerosi bustoni contenenti oltre 13 quintali di capi di abbigliamento e accessori con marchi contraffatti, numerose etichette di note griff. Un 37enne senegalese è stato denunciato per ricettazione e introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi mentre i locali sono stati sottoposti a sequestro. Torna la rassegna 1 della Dante presso la Perna Lighieri di Avellino gli studenti hanno incontrato l'irpina Giuseppina Zarra, ambasciatrice italiana in Bulgaria. Riprende presso l'Istituto Comprensivo Perna Lighieri di Avellino il ciclo di iniziative previste nell'ambito della rassegna 1 della Dante nel corso delle quali la scuola ospita ex alunni della Dante Alighieri che si sono particolarmente distinti in campo professionale. Questa volta a incontrare gli studenti è stata la diplomatica irpina Giuseppina Zarra ministra a pleni potenziaria, recentemente nominata ambasciatrice d'Italia in Bulgaria. Una grande emozione di tornare alla Dante perché ho fatto le scuole medie in un edificio tra l'altro questo che è stato voluto da mio padre dopo il terremoto che era direttore del sesto circolo e dove insegna anche mia sorella per cui è stata veramente una bella esperienza. A me ci sono stati molto curiosi di sapere com'è il mio lavoro, sulle lingue straniere, cosa significa viaggiare, cosa fa un diplomatico nella sua carriera perché effettivamente non è che sono cose un po' che avvengono lontano dalla realtà quotidiana però sono cose che alla fine in molti casi intervengono, interferiscono alla realtà quotidiana. L'iniziativa fortemente voluta dal dirigente scolastico Attilio Lieto che ha già ospitato l'attuale prefetto di Roma, Piantedosi. Ci siamo organizzati proprio per non togliere nulla ai nostri alunni perché credo che questa sia un'iniziativa importante, far vedere le personalità irpine che hanno raggiunto insomma delle carriere importanti quindi che si sono distinte nel mondo del lavoro, penso possa essere da sprune praticamente per tutti gli alunni che possono confrontarsi, fare domande con chi si è diplomato e quindi ha studiato sugli stessi banchi qualche anno fa e quindi praticamente confrontare anche i tempi che sono andati con gli attuali. Ed ora con Gianni Vigoroso andiamo a Trevico, il comune più alto della Campania dove c'è il nonno Giuseppe che ha compiuto 100 anni e ha superato due pandemie. Vediamo. Niente strette di mano, baci, abbracci e gomiti, salutiamoci col cuore. Parola di Sipeppo, da Trevico, cappa dell'Irpinia, nel giorno dei suoi 100 anni. Chi più di lui può dare saggi consigli avendo vissuto sulla propria pelle fame, guerre, prigionia e due grandi epidemie, la spagnola che tra il 1918 e il 1920 uccise decine di milioni di persone nel mondo e la pandemia Covid-19 dei giorni nostri. Questa è la cosa più brutta, più brutta della guerra, perché la guerra, sapremmo che non stavano vivere, ma qua è per tutto il mondo, oggi è per tutto il mondo. Se io potessi raccontare quello che ho passato, o io mi registro una parola sola, come hai fatto a vivere. Eccolo, lucidissimo, mentre dalla casa natale del grande regista Ettore Scola raggiunge a piedi la bellissima cattedrale di Trevico intitolata alla Madonna dell'Assunta. Sono eventi rari e eccezionali perché raggiungere questa tappa è una tappa importante ai 100 anni. E' anche raro in questo caso, anche perché questo signore ha avuto l'opportunità di superare e di vedere due pandemie. La prima la spagnola nel 18-20, quindi nel 20 che è nato lui, e adesso convive con quest'altra pandemia. Sono colpito dalla sua lucidità e anche dalla sua prontezza. E' bello vedere innanzitutto la freschezza, pur nonostante l'età, di una persona che custodisce, ma che nello stesso tempo vuole donare. Presentata questa mattina a Salerno, la rassegna teatrale c'era una volta che prenderà il via domenica 18 ottobre al Teatro delle Arti, ma gli operatori dello spettacolo temono nuove restrizioni a causa del Covid. Sentiamo. E' una delle categorie che ha pagato il prezzo più alto durante il lockdown e di mesi successivi, ma il timore degli operatori dello spettacolo è che il peggio non sia ancora del tutto passato, il rischio di nuove restrizioni. E' infatti concreto, soprattutto dopo che i contagi hanno fatto registrare un nuovo picco, un contesto che potrebbe far scattare un'ulteriore riduzione della capienza di teatri e cinema, rendendo ancora più delicata la situazione. Nonostante tutto, a Salerno c'è chi sta provando a ripartire. Questa mattina la squadra della Compagnia delle Arti ha presentato il programma di C'era una volta, il family show della domenica, in programma una volta al mese al Teatro delle Arti. Il primo spettacolo è in programma domenica 18 ottobre, quando andrà in scena la Dino. Ormai è diventata una sorta di consuetudine quella della domenica mattina al Teatro delle Arti, con la Compagnia dell'Arte e con le fiabe c'era una volta l'appuntamento a teatro con mamma e papà. E' un momento questo molto particolare per tutto il mondo del teatro e noi cerchiamo di ripartire, cerchiamo di farlo chiaramente in massima sicurezza, con tutte le norme possibili e immaginabili per accogliere il pubblico e anche per poter lavorare in palcoscenico. Sentire in continuazione nuove norme, nuovi decreti che diminuiscono sempre di più l'accesso del pubblico in sala significa per noi una lentissima morte che sta arrivando piano piano. Se non dovessimo ripartire adesso con ottobre e novembre, credo che ci sarà una lenta morte per tutto il teatro, per la cultura in generale in Italia. E con questo chiudiamo il nostro telegiornale in regia. Aldo Fenizia, grazie per averci seguito. Arrivederci. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.